Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Clix e oggi ragazzi sono qui tornato incredibilmente signori miei su GTA V Online E sono qui oggi ragazzi finalmente tornato con un nuovissimo nuovo glitch In cui ragazzi vi mostrerò un glitch veramente semplicissimo Che riguarda ragazzi il come andare off radar con le armi come anche senza polizia Diciamo ragazzi che questo glitch appunto vi permetterà di poter andare sia off radar Quindi appunto stando off radar E vi permetterà ragazzi anche di utilizzare le armi quindi stando sempre off radar E la cosa diciamo più bella secondo me di questo glitch è appunto che la polizia non vi romperà i coglioni Quindi è veramente ragazzi un glitch della madonna Veramente ragazzi un glitch bomba Ragazzi allora vi dico fin da subito che sto parlando in live E ragazzi diciamo che ultimamente ci ho preso un po' la mano con questi diciamo glitch parlati in live E insomma fatemi sapere se vorreste vederne altri appunto magari prossimamente in futuro qua sul mio canale O se appunto preferite i soliti video prima registrati e poi commentati Anche se comunque io preferisco appunto giocare e parlare in live allo stesso tempo Perché appunto secondo me è molto più conveniente Detto questo ragazzi nulla Io vi invito già da subito a lasciare il vostro mitico bel pollicione in subomba ragazzi Che mi aiuta veramente tantissimo E anche per questo glitch ragazzi mi raccomando cerchiamo di arrivare a 100 like Molto molto importante Perché ragazzi se arriveremo a 100 like io cercherò di portarvi altri nuovi glitch Come anche nuovi money glitch Quindi insomma ragazzi già da subito iniziate a spolliciare per questo fantastico glitch Perché ragazzi se arriveremo a 100 like entro 24 ore Io ragazzi cercherò di portarvi anche un glitch su come avere munizioni infinite E avete capito bene ragazzi Come anche altri nuovi money glitch che diciamo sono riuscito a trovare Quindi insomma non vedo l'ora di portarvi Però ovviamente ragazzi tutto dipende da voi Quindi mi raccomando cerchiamo subito sotto a supportarmi E niente ragazzi 100 like per questo glitch Per futuri contenuti in arrivo qua sul mio canale E ancora prima di iniziare ragazzi vi invito ad entrare nel mio canale Telegram Di cui troverete il link in descrizione Perché ragazzi come dico sempre in ogni mio video Il canale Telegram è il social principale che vado a utilizzare Quando c'è una qualsiasi tipo di nuova news da comunicare Appunto la vado a comunicare su Telegram Quindi mi raccomando ragazzi se avete l'applicazione di Telegram Entrate nel canale troverete il link in descrizione Anche perché ragazzi mancano veramente pochissimo Ai 300 membri sul canale Telegram Quindi niente se appunto avete l'applicazione Già da subito iniziate ad entrare E niente tentiamo ragazzi di raggiungere appunto I 300 membri sul canale di Telegram Quindi mi raccomando ragazzi troverete il link in descrizione Detto questo iniziamo subito con il video Ragazzi vi dico fino a subito che per fare questo glitch Vi serviranno alcuni requisiti E i requisiti ragazzi sono avere un magazzino per i veicoli Come state vedendo appunto in questo momento ragazzi Io sono davanti al mio magazzino Poi vi servirà ragazzi un veicolo speciale Quindi veicoli speciali intesi questi veicoli qui Quindi Phantom Wedge, Ruiner, Technical e roba così insomma E per questo glitch ragazzi è consigliata la Rocket Voltic Se comunque se non avete una Rocket Voltic Cercate di guadagnare quanti più soldi possibili Per appunto poterla acquistare e fare questo glitch Diciamo che è quella consigliata Però anche se avete per esempio la Wrap Buggy Può andare bene Poi io comunque consiglio la Rocket Voltic Perché appunto è la macchina consigliata per fare questo glitch Vi servirà poi un centro operativo mobile ragazzi Come state vedendo io adesso ho parcheggiato il mio centro operativo mobile qui E molto semplicemente ragazzi All'interno del nostro centro operativo mobile Dovremo avere l'officina e armeria Quindi allo slot numero 2 Dovremo posizionare semplicemente l'armeria con officina Vi faccio appunto vedere Andate su internet Centro operativo Slot 2 E applicate ragazzi l'officina e l'armeria Se non avete appunto questo slot acquistato Appunto non potrete fare il glitch Quindi molto molto importante Poi ragazzi vi serviranno degli snack E per la precisione vi serviranno esattamente queste qua ragazzi Le Peace Waster Ossia appunto le birre E ve ne serviranno esattamente 8 Però comunque se fate il carico dalla vostra assistente Appunto è molto molto meglio Io comunque appunto consiglio di avere tutti quanti Gli slot degli snack carichi Perché appunto vi servirà la Peace Waster Ossia appunto la birra Peace Waster E basta ragazzi Non ci sono oltre i requisiti Quindi possiamo anche iniziare Quindi ragazzi per prima cosa Dovremo andare in città online In una sessione pubblica Come state vedendo appunto dal video E una volta fatto ciò Dovremo semplicemente avvicinarsi Come primo requisito appunto Al nostro magazzino dei veicoli E dunque una volta fatto ciò ragazzi Dovremo semplicemente Prendere le nostre bombe adesive Ragazzi dovremo applicarne 5 Per diciamo tutto il garage Dove appunto abbiamo applicato Insomma c'è il garage dove abbiamo acquistato Ecco come state vedendo Una volta fatto ciò Quindi ragazzi Dovremo entrare all'interno Del nostro veicolo speciale Poi dipende appunto dal veicolo Che state utilizzando E semplicemente ragazzi Una volta che sarete appunto All'interno del veicolo Dovrete semplicemente ragazzi Avvicinarvi alla porta del garage Per appunto poter entrare nel magazzino veicoli E appena ragazzi Vi avvicinerete al garage Dovete subitissimo Premere la freccia destra Per appunto far saltare le bombe Quindi praticamente Andandovi ad avvicinare Al magazzino Dovrete appunto saltare in aria Quindi niente Adesso andiamo appunto A fare questo step Quindi mi avvicino E faccio In questo modo Ok Più o meno Dovrebbe funzionare così ragazzi Spero di sì Penso di averlo fatto Penso di esserci riuscito E dunque Una volta fatto ciò ragazzi Poi dipende appunto Anche dal tipo di magazzino Che avete Io comunque se avete questo magazzino qui Come me Fate appunto come nel video Una volta fatto ciò ragazzi Io penso di aver Di esserci riuscito a primo tentativo Quindi Dunque dovremo entrare Una volta che saremo appunto risponati Dovremo entrare ragazzi All'interno del nostro centro operativo mobile E se stiamo facendo il glitch correttamente Praticamente il gioco Non ci farà entrare appunto All'interno del centro operativo mobile Ma ragazzi Ci appunto comparirà Ecco come starei vedendo Non Io in questo caso Non è andato Ci basterà quindi Ci avviciniamo al centro operativo mobile Ragazzi E se comparirà una schermata nera Infinita Allora vuol dire che il glitch L'abbiamo fatto correttamente Quindi io adesso Andrò a rifarlo Un momento Che 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 Ok Ok penso ragazzi che adesso Dovrebbe aver funzionato Penso di sì dunque Una volta che saremo respawnati come ho detto Prima dovremo quindi avvicinarci al nostro Centro operativo mobile ragazzi dovremo salire al suo Interno e se avremo una schermata nera Infinita e quindi non ci farà entrare Allora vuol dire che appunto abbiamo eseguito questo Primo passaggio correttamente quindi Andiamo appunto a verificare Se appunto ci fa entrare o meno Ok Dunque ragazzi una volta Che saremo come vedete adesso Sta caricando quindi appunto abbiamo eseguito Il glitch correttamente semplicemente ragazzi Da questa schermata nera dovremo schiacciare Il tasto ps dovremo andare su Appunto l'icona di gta 5 dovremo Ragazzi andare su attività e a questo Punto ragazzi dovremo cercare un Un'attività di un nostro amico Dove magari appunto questo nostro amico Abbia giocato cazzo Ne so una gara abbia riscosso taglie Abbia comprato armi vestiti Abbia affrontato un duello insomma come State vedendo e dunque una volta Che avremo trovato la nostra attività Schiacciamo x per selezionarla Dunque attendiamo che il menu Venga caricato ragazzi e una volta Che si aprirà questa schermata dovremo Semplicemente posizionarsi su avvia gta Online a questo punto ragazzi dovremo Schiacciare il tasto x quindi Come state vedendo ragazzi ci comparirà Questa schermata di uscita Semplicemente ragazzi qui adesso Schiacciamo il tasto cerchio dunque una Volta fatto ciò ragazzi se avete fatto Il glitch correttamente come state Vedendo dal video dovreste Spawnare appunto all'interno del vostro Magazzino veicoli praticamente Bugatissimi raga quindi come state Vedendo io ho eseguito il glitch Correttamente dunque una volta ragazzi Che avrete fatto questo dovrete Aprire il menu interazione andare su Inventario dovrete andare su snack poi Pisso vostre ragazzi e a questo punto Dunque dovrete bere otto birre come Avevo detto a inizio video quindi Semplicemente ragazzi schiacciate appunto Il tasto x lo tenete premuto finché Appunto il vostro personaggio non andrà a Bere appunto tutte quante tutte Quante le birre appunto quindi Semplicemente aspettiamo che il nostro Personaggio beva tutte le birre e Dovremmo praticamente ragazzi farlo Ubriacare in modo che appunto poi Moriremo e spawneremo appunto nella Mappa di gta online Ok come avete visto ragazzi abbiamo Bevuto le nostre birre e dunque Dovremmo far ubriacare il nostro Personaggio in modo che morirà e Quando ragazzi saremo morti Spawneremo da qualche parte nella mappa Di Los Santos quindi attendiamo che qui Carica ragazzi ok eccoci qui Spawneremo praticamente ragazzi davanti All'ospedale e come stare Venendo dalla mappa ragazzi avremo Appunto la mappa vuota quindi appunto Come stare vedendo a questo punto Ragazzi dunque saremo Praticamente a fine glitch tutto quello Che adesso ci basterà fare ragazzi è Entrare quindi rubare un veicolo dalla Strada dovremo ragazzi recarci all'interno Della nostra club house e una volta Ragazzi che saremo dentro la nostra Club house potremo dunque poi Continuare con il glitch Ok ragazzi eccomi qui arrivato alla Club house dunque una volta che Saremo appunto arrivati nella nostra Club house ci basterà semplicemente Entrare al suo interno dunque Attendiamo che il gioco carichi All'interno della club house e una volta Ragazzi che saremo all'interno della Nostra club house tutto quello che Dovremmo fare è veramente molto Semplice appena quindi appunto Entreremo all'interno della club House dovremo impostare tramite Il nostro touchpad la visuale in Prima persona quindi una volta fatto Ciò che saremo appunto all'interno Della club house mettiamo la visuale In prima persona e a questo punto Ragazzi usciamo dalla club house Andando ragazzi ad uscire dalla Club house a questo punto il glitch Sarà praticamente finito saremo Off radar ragazzi con tutte le armi E senza appunto la polizia E consiglio di fare questo glitch ragazzi In sessioni pubbliche Ok come state vedendo Ok appunto ecco Avete anche ragazzi le vostre armi Che potrete utilizzare Come state vedendo appunto Ho le mie armette E niente ragazzi direi che per questo Video può essere tutto Io ragazzi spero abbia apprezzato Ah la polizia mi arriva Bene allora ok ragazzi non Pensavo che la polizia non arrivasse Io avevo letto sul forum appunto Che la polizia non arrivasse Ma semplicemente ragazzi La polizia quando arriverà Verrà praticamente a cercarvi al magazzino Quindi se vedete appunto Io sono sempre nel mio magazzino Quindi praticamente ragazzi La polizia non verrà mai a trovarvi Ammucchierete sì Nel livello di sospetto Però appunto Non Come dire Sarete sempre invisibili E irrintracciabili Per appunto la polizia E detto questo ragazzi Nulla Io direi che qua da Krix Può essere tutto Io ragazzi spero abbia apprezzato Vi invito a lasciare un like Mi raccomando ragazzi Cerchiamo di arrivare al 100 like Anche per questo fantastico glitch E dunque ragazzi Io ovviamente vi saluto Vi ringrazio ragazzi Qua da Krix È tutto E niente Io ragazzi vi ricordo sempre Che in descrizione trovate Il link del mio canale telegram Profilo instagram E profilo facebook Di cui appunto ragazzi Vi invito a seguirmi E troverete il link in descrizione Detto questo ragazzi Nulla Ecco come vedete La polizia se n'è appena andata Quindi appunto Ogni volta che Raggiungerete un livello di sospetto Praticamente la polizia Avrete sì appunto Il livello di sospetto Ma Non verrà mai appunto A cercarvi Perché sarete bugati All'interno appunto Del vostro magazzino Dei veicoli Quindi appunto Come vi ho detto precedentemente Detto questo ragazzi Nulla Qua da Krix È tutto Io vi saluto E vi ringrazio E niente Noi ragazzi ci becchiamo In un prossimo video E niente Bella Ciao a tutti